le serie sky original ormai sono una garanzia sì perché ho iniziato a vedere christian questa nuova serie tv che va in onda il venerdì con due episodi a settimana diretta da stefano lodovichi e devo dire quanto mi abbia sorpreso io ho un debole per le storie che parlano di malavita di storie di vita da strada ed effettivamente vedere intanto edoardo pesce protagonista coatto questo delinquente scagnozzo di una banda di criminali capeggiata dall'ino interpretato da giordano de plano che deve svolgere questi lavori nella periferia romana più sporca più truce più coatta più burina insomma immerso in questi ambienti dove realmente anche quando senti i personaggi percepisci quanto quanto esista una povertà culturale dialettica lessicale quanto questi personaggi siano razzisti omofobi siano cafoni siano realmente persone che sappiano parlare solo attraverso la violenza ed ecco che lodovichi convincendomi molto di più rispetto al film la stanza che ripeto trovereste la recensione sul canale non è che mi fece impazzire per quanto nel complesso si lasciasse guardare lodovichi racconta proprio questo mondo rifacendosi ad una graphic novel dal titolo stigmate di claudio piero santi e lorenzo mattotti devo dire che mi piace quando si tenta di fare un qualcosa che abbracci il gangsteristico italiano insomma questo genere noir criminalistico che ormai da anni ha preso il sopravvento ma facendolo amalgamare con il fantasy perché sì la serie ci sta facendo capire di puntata in puntata ne abbiamo viste solo due ora come ora che forse ci possa essere qualche elemento sovrannaturale farò spoiler quindi nel caso non aveste visto i primi due episodi recuperateveli su sky o su now e poi tornate ad ascoltarmi in attesa del terzo e del quarto che proprio andranno in onda stasera io sto registrando la recensione venerdì e stasera usciranno i futuri due episodi di cui parleremo nei prossimi giorni allora intanto ottimo cast scelto perché abbiamo banno che avevo ad esempio apprezzato molto in vita da carlo o in suburra la serie quindi antonio banno molto ben secondo me inserito in questo ambiente criminalistico che lodovichi ci vuole raccontare figlio di lino proprio il capo giordano de plano il capo quante volte ha lavorato con tau 2 giordano de plano stavolta è diventato cattivissimo l'abbiamo visto in ruoli anche diversi come poliziotto come sicuramente non malavitoso mentre questa volta è veramente cattivo è una serie che mi colpisce sia fotograficamente benjamin mayer riesce a catturare la freddezza del posto del luogo mostrandoci questa periferia romana che non sfigurerebbe accanto alla scampia gomorriana mostrandoci proprio lo squallore di una vita portata avanti nel peggiore dei modi tra delinquenti che svolgano queste mansioni per sentirsi vivi e donne pensiamo al ruolo di silvia d'amico bravissima lei nei panni di una tossica che è disposta a concedersi sessualmente pur di essere pagata per comprarsi una dose silvia d'amico l'abbiamo vista nella bellissima casa tutti bene la serie altra carta vincente sky original di gabriele mucino qua la vediamo nei panni di una tossica in un ruolo completamente diverso ma lei è una attrice versatile trasformista affascinante brava guardate la cura per quanto riguarda anche la scenografia di massimiliano sturiale la cura per quanto riguarda l'abitazione della nostra silvia d'amico cioè di di rachele guardate questo materasso buttato in terra l'uguro le cose tutte accatastate sul pavimento cioè si percepisce lo squallore si percepisce la sporcizia quasi si sente la puzza delle cose fatiscenti che si possono trovare in questo quartiere povero quasi ripeto da periferia napoletana ma invece siamo in una periferia romana non ci mostrano le bellezze di roma ci mostrano gli anfratti più oscuri di una roma periferica come ci mostrano anche le pulsioni più 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 sfrenate più più negative di questi personaggi che ci accompagnano nella visione dei due episodi c'è anche gabriel montesi c'è molta ironia ironia cinica ironia quasi ad un certo punto dettata da un'ignoranza l'ignoranza che portano avanti i nostri protagonisti che pensano realmente che con la cattiveria con la forza con le maniere forti si possa risolvere qualsiasi situazione e quindi conosciamo il nostro christian christian il nostro eduardo pesce capello tirato indietro barba incolta che fuma che mangia di tutto più che altro zuccheri che è un monnezza dei nostri tempi thomas milian avrebbe apprezzato tantissimo christian vediamo questo nuovo ermonnezza che svolge i suoi lavori che va a spezzare le braccia nei bar che dovrebbero pagare ma non hanno i soldi si sono indebitati solo che ad un certo punto tra uno sfratto e l'altro e bisogna far uscire lo zingaro er negro no solo che dopo l'ennesimo lavoro andato a buon fine ecco che le mani hanno un problema del resto la graphic novel si chiama stigmate ci sarà un perché il nostro protagonista christian sarà un cristo dei nostri giorni dovrà andare incontro ad una redenzione cominceranno a sanguinare le sue mani già nel primo episodio ce ne rendiamo conto e cade la pistola e non riesce a colpire le persone cosa sta succedendo qualcuno lo vuole mettere alla prova qualcuno vuole che diventi buono ma soprattutto qual è il destino per lui dopo che riesce a salvare una ormai morta rachele in overdose dentro un ascensore la riporta proprio dal mondo dei morti per quanto lui non se ne renda conto e pensa sia stata una botta di fortuna quindi queste storie si intrecciano con un secondo episodio che mostri ancora di più le conseguenze di questo dolore alle mani amo le scene in cui va dal dottore questo dottore dei poveri realmente rinchiuso dentro una stanza che per qualsiasi cosa chiede soldi a christian e 20 euro e 100 euro e 150 euro e lui tieni 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 cioè questo romano proprio cioè edoardo pesce è fantastico cioè abbiamo bisogno di serie così cattive ma che allo stesso tempo non siano neanche ripetitive con altre che abbiamo già visto non stiamo vedendo suburra per quanto anche se restasse solamente in ambito gangsteristico realistico sarebbe allo stesso tempo convincenti almeno dai primi due episodi ma si sceglie di andare oltre perché si percepisce anche quando ci viene presentato il personaggio di matteo claudio santamaria un bambino ormai un adulto ma da bambino venne investito venne investito e però è sopravvissuto sopravvissuto non è gli anni più belli di muccino però è sopravvissuto ha visto l'alfa e l'omega ha visto l'inizio e la fine ha visto dio ha visto un angelo chi avrà visto ma comunque lo hanno salvato e gli è stato promesso che avrà sempre l'aiuto di cui ha bisogno e quindi come se fosse un moderno angelo che scende dai cieli vuole investigare su questa situazione perché sa che rachele sia sopravvissuta perché sa che forse c'è stato un miracolo e quindi deve capire dove sia cristian e quindi deve capire cosa sia successo c'è una scena secondo me bellissima in cui ci troviamo di fronte ad un corridoio stanno camminando cristian e il personaggio di il figlio di lino l'antonio bannò cioè davide stanno camminando ad un certo punto vediamo di spalle claudio santamaria cioè matteo che ancora non si è presentato ai due e lì tra l'altro si sceglie anche grazie a queste musiche di giorgio giampà ma anche ad una ad un sound design degno di nota si sceglie comunque di farci ascoltare una canzone che diciamo passi da un canale all'altro quindi io guardando guardando la puntata su now con le cuffie sentivo proprio no questa acustica che mi passava da una cuffia all'altra da un canale all'altro e quindi questo senso quasi di disorientamento voluto per far capire che la situazione stia andando di fronte ad un contrasto un contrasto che poi si verificherà quando sicuramente bene male ma chi è il bene chi è il male si scontreranno perché sì matteo può essere sinonimo di bene ma fino ad un certo punto da una dose alla nostra rachele la dose che esce fuori è quasi horror ci sono le tinte horror esce fuori quindi c'è questo verde incontaminato fotografico scende questa questa sostanza nelle vene di rachele bellissimo sto amando questa serie siamo alle prime due puntate la sto amando vedete in italia quanto sappiamo fare ma mi piacerebbe ne parlassero di più cioè va bene le serie netflix però guardate le nostre serie italiane cioè porca miseria che bellezza con un finale in cui è caspita io tradisco il codice devo usare una pistola per sfrattare il tizio che non vuole andarsene ma poi lì non lo scopre quindi te ne devi andare curo io tua madre solo che poi alla fine una vecchia conoscenza botta al nostro cristian se lo portano via e quindi vediamo cosa accadrà nei due prossimi episodi bisogna capire quanto cristian da malavitoso diventi invece un cristiano bisogna capire quanto invece matteo che sembra sinonimo e metafora del bene quanto invece le sue azioni non confluiscano verso il male perché è interessante come cosa io che devo dire non voglio sicuramente soffermarmi sulle critiche sterili perché ragazzi questo denota quanto si viva in un paese bellissimo ma popolato da da dementi molto spesso perché c'è una scena nel film in cui bisogna scoprire una password per aprire una stanza e la password è lazio merda con due m i tifosi laziali hanno cominciato ad offendere un attore come eduardo pesce che stava interpretando un ruolo e vorrei ricordarvi stava interpretando un ruolo e quindi lo hanno subissato di offese critiche minacce eduardo pesce da attore ha cercato di farlo capire su facebook ma ovviamente di fronte alla stupidità ad un certo punto anche scritto roma merda siete contenti così almeno capite che stavo interpretando un personaggio ma la cosa assurda perché queste persone poi votano no è un po come quando malamore in gomorra seconda stagione uccideva la figlia di di ciro e se la sono rifatta con l'attore non capendo che si trattasse di finzione che interpretasse un personaggio la cosa bella no è che te dici c'è ignoranza c'è superficialità nella mente di queste persone che pensano che ciò che si veda in un racconto di finzione sia vero magari soffermati sul razzismo perché questi sono razzisti come personaggi e negra frocio cioè sono omofobi no il calcio è più importante sarebbe già assurdo si soffermassero su queste cose perché ripeto è finzione poi vuoi raccontare dei disadattati ignoranti e quindi li devi mostrare come degli ignoranti e non certo come culti ma se per di più vuoi vuoi dici voglio ignorantemente soffermarmi su qualcosa il calcio viene prima di tutto perché la password per aprire una stanza era lazio merda ma ragazzi ma fatevi curare veramente fatevi curare cioè siete voi votate vi rendete conto cioè queste persone votano votano poi ci lamentiamo di come vada l'italia cioè non riescono a capire la finzione perché un personaggio deve dire lazio merda siete siete da rinchiudere buttare via la chiave e lazio merda ecco e poi dico anche una un'altra cosa amo quindi la commissione di generi commedia dramma gangsteristico fantascienza episodi da 42 45 minuti insomma scorrono benissimo non vedo l'ora di vedere come proseguirà questa serie quindi stefano lodovichi per me fa un grande passo avanti rispetto alla stanza magari poi rivedendolo lo rivaluterò anche più in positivo però la prima volta non mi fece così impazzire per quanto non era certo un film da buttare grande edoardo pesce grande claudio santamaria mi piace fotograficamente registicamente mi piacciono le musiche mi piace il sound design mi piace la presa diretta la sceneggiatura di enrico audenino valerio ciglio e roberto sacu cinardi perché l'idea di tutto è di roberto cinardi che è un regista di videoclip musicali che non conoscevo la graphic novel stigmate anche noi in italia si prendono le graphic novel e si tenta di trasporle cinematograficamente in maniera seriale penso ultimamente alla terra dei figli film bellissimo di cupellini comunque non divaghiamo fatemi sapere la vostra christian due puntate bellissime curiosissimo di andare avanti vi attendo nei commenti fatemi sapere se vi è piaciuta questa prima e seconda puntata se vi sono piaciute queste due puntate vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale che abbonando vi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un saluto e alla prossima